Non solo era presente l'amianto nel terreno franato dalla piazzola lungo la I45 nei pressi di Pieve Santo Stefano, ma era presente in quantità almeno tre volte superiore a quanto consentito dalla legge. Questo è uno dei risultati emersi dalla relazione tecnica consegnata nei giorni scorsi alla procura di Arezzo. A disporre la perizia era stato il GIP Pier Giorgio Ponticelli in seguito alla richiesta di incidente probatorio avanzata dal legale dell'azienda incaricata da Anas di spostare il materiale franato in un altro sito. Adesso dunque i risultati della perizia avranno un valore di prova in caso di procedimento giudiziario. Dunque sotto quella piazzola crollata lo scorso febbraio e poi posta sotto sequestro non ci sarebbe stato solamente terreno di riporto roccia, ma erano presenti anche rifiuti speciali pericolosi. I dati provenienti dai campioni analizzati, stando alle prime indiscrezioni, parlerebbero di ben 3.470 mg per chilo di amianto presenti sul terreno prelevato dal sito di stoccaggio. Questi dati confermerebbero i sospetti della procura di Arezzo e dei carabinieri forestali del gruppo ambientale della procura incaricati di svolgere le indagini che avevano portato in un primo momento al sequestro della piazzola e poi nel marzo scorso anche al sequestro dell'area dove il materiale franato era stato stoccato. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di disastro colposo.